Vegan is SimpliCity, buona giornata a tutti! Oggi vi propongo una ricetta semplicissima con il cavolo cappuccio viola, come vediamo in fotografia. Questa ricetta consiste nell'ottenere delle cotolette di cavolo viola, cotolette 100% vegetali. Come ho fatto a realizzarle? Per prima cosa ho messo le foglie del cavolo cappuccio viola in padella con un poco di sale e il coperchio magico. Le ho senza acqua, quindi fatte un po' grigliare, le ho grigliate, le ho arrossite un pochino, anche se loro sviluppano comunque acqua. Successivamente ho acceso il forno a 230 gradi, l'ho preriscaldato, ho preparato la carta forno con semplice mollica, un pochino di olio di oliva e ho messo queste foglie, le ho girate su se stesse, quindi preparando questa impanatura, ripeto mollica e olio, poi le ho infornate per circa 40 minuti, le ho girate, ho aggiunto un altro poco di mollica ed eccole qua, semplicissime, tipo chips croccanti. Molto buone. Andiamo a vedere adesso i valori nutrizionali. 31 calorie, 0,2 grassi, 0 colesterolo, 27 mg di sodio, 243 mg di potassio, 7 carboidrati, fibra alimentare 2,1, proteine 1,4 e poi abbiamo il pieno di minerali, comunque vitamine, vitamina A, vitamina C, cobalamina 0, calcio 45 mg, magnesio 16 mg, un pochino di ferro, quindi comunque questo cavolo cappuccio è abbastanza interessante come profilo nutrizionale, è fatto così e adatto anche a tutte quelle persone che soffrono un po' di gonfiore, che comunque non adorano le verdure lesse, che un poco, diciamoci la verità, sfondano lo stomaco, cioè appesantiscono, invece fatte così sono adatte pure per i bambini, anche se effettivamente il sapore deve piacere perché tende anche sottilmente un po' all'amaro, ma sono venute ottime. Da Veganist Simplesity è tutto, buona ispirazione a tutti!